Roma umiliata da una fantastica Udinese Roma umiliata da una fantastica Udinese ragazzi io sono avvelenato io sono avvelenato parto un presupposto però parto un presupposto leggo un sacco di commenti vergognosi di gente che tanto parla solamente per sfotte ma in casa propria poi guarda e piagna i peggiori di noi ah, ogni anno Roma deve essere umiliata sì perché 4-0 voi non ci perdete perché la razza non perde 4-0 perché l'Inter non perde la Juve non perde il Napoli non perde non hanno prima una partita in cui fanno cagare no, solo quando la Roma perde oh, umiliati dai cordi di Mourinho ma guardate in casa vostra che fate pena peggio di noi fate pena essere qui a guardare il nostro orto ma dai su parate di ricaccia almeno informatevi sui vostri risultati perché se no mi metto solo a carite detto ciò ragazzi miei la Roma viene massacrata dall'Udinese questo è un dato rifatto ma non metterevi a parlare a caso che vergognosamente proprio detto ciò piedi per terra questa partita serve solo a rimettere piedi per terra ma io non parlo dei tifosi perché a me dei tifosi non me ne frega niente se c'è un tifoso che dice che la Roma vince lo scudetto è un problema suo se c'è un tifoso che dice che la Roma va in Serebì è un problema suo i tifosi non posso dire pensare, esultare, esaltare quanto gli pare il problema è la squadra se la squadra si esalta è un problema se i tifosi si esaltano chi se ne frega perché in campo non vanno i tifosi vanno i giocatori quindi quando parlo di piedi per terra se voi dite i tifosi romanisti parlano o non parlano non me ne frega niente mentre se che siano i calciatori che non si esaltino che sono i calciatori che vanno in campo non sono i tifosi quindi chi se ne frega i tifosi di quello che dicono i tifosi ok? conta l'approccio e l'atteggiamento che c'è alla squadra oh Gero ma ha sbagliato tutto sbaglia tutto si vede già dall'inizio già dall'antifona come va la partita perché Cassdorp fa probabilmente un autogol se può dire è retropassaggio maledetto verso Lui Patrizio l'Audogi segna e poi un errore dietro l'altro segna il 2-0 Lui Patrizio voleva fare di più poi gran gol gli altri due quindi che volevamo fare cioè L'Udinese io non volevo mai finire la partita una Roma che non aveva scioltesse in campo non aveva idea in campo vabbè quel palo quando stavamo tipo 2-0 abbiamo un palo ma poco conta una Roma vergognosa una Roma vergognosa che questa sconfitta che alla fine vale 0 punti quindi per 5-6-0 1-0 chi se ne frega certo io lo dico con L'Udinese è un campo ostico perché quest'anno è proprio una bella squadra dici vabbè perdi 1-0-0 dici oh Merode però Però 4-0 ragazzi Proprio non ci abbiamo capito niente Non ci abbiamo proprio capito niente Nessuno Ebram è il fratello scemo di Ebram Raga Ma che è? Se fa male anche lui Quindi Cioè non c'è una cosa che ci è andata bene Non c'è una cosa che ci è andata Tutto Quello che poteva andare storto Andava storto Si è fatto male pure Ebram per Diff No? Ma speriamo che non sia un'altra lustrazione alla spalla Perché sennò c'è Non so che Diff Però ragazzi Bagno di umiltà Non parlo di tifosi Parlo di squadra Che deve proprio farci ripartire Da zero Cioè non da zero Perché potenzialità ce l'abbiamo Banda in Champions Però Diceo Forse ci eravamo esaltati un po' troppo Ora dalla prossima Che con l'Empoli se non erro Che è difficile anche quella Perché sono una bella squadretta anche loro ostica Certo non con l'Udinese L'Udinese Quest'anno può dire la sua Può stare Secondo me già dalla decima posizione Verso la settima Può starci benissimo Però Cioè Che ci sia un momento di riflessione serio Perché è una bella sveglia quella di oggi È una bella crocca in bocca È una bella crocca in bocca